Sono più di 100 i cavalli che parteciperanno dal 21 al 23 ottobre al centro ippico di Caluso in provincia di Torino all'Italian Quarter Championship finale 2016. In gara esemplari di Quarter Horses, cavalli americani molto amati per la loro dolcezza, derivati da incroci tra puro sangue e cavalli di razza spagnola. La manifestazione, denominata Coppa delle Regioni, è patrocinata dal Consiglio regionale ed è stata presentata a Palazzo Lascaris. Un evento che si svolge in un comune della provincia di Torino a Caluso, uno sport al femminile, quindi per questo sono particolarmente lieta di essere qui. Un altro aspetto importante, il valore dello sport, soprattutto dopo i successi alle Olimpiadi e Paralimpiadi. Ancora felici di questo risultato, credo che oggi più che mai sia una giornata importante, una giornata importante da condividere proprio per le motivazioni che ho detto e per la grande attenzione che il Consiglio regionale del Piemonte ha sempre avuto nei confronti dello sport. Si tratta di un insieme di discipline Western, perché in questa finale del campionato italiano per l'Associazione Italiana Quarter Horse troveremo i nostri cavalli esibiti addirittura in dieci discipline diverse. Partiamo dalle gare di morfologia, quindi della bellezza del Quarter Horse, poi avremo delle gare più veloci, quali il Raining, e poi abbiamo delle discipline di precisione, quali il Western Pleasure e il Trail Horse, che sono discipline che non sono tanto conosciute al grande pubblico, quindi ci farebbe molto piacere che fosse un'occasione per iniziare a fare conoscere uno sport di nicchia e di precisione.